E' appena stato pubblicato sul libro quotidiano un articolo aderente a Baba Vanga, profezie funeste. Si dice Baba Vanga, profezie funeste sul 2019, solo sciagure per l'Europa, Trump e Putin. Ecco, 28 dicembre 2018, oggi. Ma vediamo cosa dice l'articolo per capirne qualcosa di più. Ecco, ora noi leggiamo un terribile 2019, almeno per Vladimir Putin e Donald Trump. La vigente bulgara Baba Vanga è morta nel 1996 ed è considerata ancora oggi la nostra damus dei Balcani. Le sue scure profezie avrebbero individuato in netto anticipo eventi devastanti come l'attentato alle torri gemelle nel 2001. La nascita dello Stato Islamico è la Brexit. Per i prossimi 12 mesi il suo testamento prevederebbe una misteriosa malattia per il presidente americano Trump, scrive l'agenzia bulgara, che lo renderà sordo e rilascerà danni celebrali. Anche il collega russo se la passerà male, Putin sarà oggetto di un attentato, ma non è dato da sapere che esito avrà. Secondo le profezie di Vangelina Pandeva Gusterova, questo dello nome di Baba Vanga, ci sarà poi un nuovo tsunami in essere moriente, come quello del 2004, mentre l'Europa precipiterà nuovamente in una grave crisi economica. Allegria. Ecco, questo è quanto riguarda la profezia. Ma vediamo le tre righe che normalmente scrivo sopra gli articoli, prima di pubblicarli sui vari social. Ecco, qua siamo nella pagina iniziale dell'articolo. E' sopra le tre righe. Pare che le profezie di Baba Vanga sono tenute in considerazione da molti, anche se la vera profezia della fine di questo tempo è già una realtà. Sì, una realtà che si evidenzia dalle decine e centinaia di video pubblicati negli ultimi due anni, soprattutto nel 1917. Ecco, questi sono alcuni dei video di cui ho appena parlato, che riguardano il 2018 e poi man mano finiscono il 2017, dove si evidenzia, ecco questo in questo caso è la playlist della guerra che si avvicina, e qua i vari video si preparano la guerra America, Cina e Russia, ci sarà la guerra contro la Russia o la Cina, e così via abbiamo bruciato sentimenti e valori e via via man mano arriviamo a tutti i periodi o i mesi in cui eravamo a un passo dalla guerra, come appunto ha detto nella metà del 2017. Ecco, per dire, noi stiamo già vivendo la profezia della fine di questi tempi, a prescindere da qualsiasi altro veggente o profeta, come appunto Baba Vanga. Ecco, per dire, basta aprire gli occhi e vedere, sì, vedere che tutto quello che c'era non c'è più e che siamo in costante pericolo di una possibile terza guerra mondiale, come appunto Nostradamus ha predetto nelle sue quartine. Noi viviamo dentro una profezia e aspettiamo inconsciamente che tutto possa finire nel peggio dei modi. Diversamente quando vediamo nella playlist dei segni premonitori, quanti segni premonitori ci sono stati dal 2011 in poi, sì, dal 2011 quando si sentirono in ogni parte del mondo le urla uscire dalla terra, chiamate poi le trombe dell'Apocalisse. Inoltre, piogge, fiume e neve il color di sangue, come riporto in alcuni video, riprendendo documenti ufficiali o articoli riportati su ogni giornale del mondo, e poi via via le tracrisi e così via ecco le profezie, o almeno i segni premonitori annunciati delle profezie, in questo caso annunciati in una dimensione superiore che avvisava e avvisa gli uomini che tutto può essere vicino. Alla sua fine Questi sono fatti E questo per restare più nel tema delle profezie e la playlist delle profezie, sì, le profezie che il Papa sapeva, come si evidenzia nel video, della profezia, della guerra e della fine di questi tempi, o di questo mondo. E così via via dicendo anche la profezie della profezie, quella fatta dalla Madonna, come riporta qua nel video, parla della fine del mondo. E' la profezia più realistica, la più attendibile e la più facile da comprendere. E così andando avanti, Papa Bergoglio sapeva dell'Apocalisse, la fine del mondo, celata nel nome, i due papi, 33 giorni alla fine del mondo. Ecco, questi sono alcuni dei video sui segni, sulle profezie che noi stiamo vivendo. Noi siamo dentro la profezia stessa che ci condurrà probabilmente alla fine di questi tempi, alla fine di questa realtà. Sì, guardando questi video, anche lo scetticismo più stupido, più cieco, diventa credibile, o almeno anche il più scettico potrà iniziare a credere, vedendo che cosa? I fatti, perché sono i fatti che parlano, e in questo caso bisogna solo aspettare, perché le pronunzioni e l'interpretazione di questi segni premonitori siano reali. Senza dimenticare che la fine di questo tempo è anche rivelato dagli scienziati, come riporta questo articolo, che evidenziano come ci sia in atto lo sconvolgimento del campo magnetico terrestre. Sì, come dicono le trighe, il rischio che avvenga l'inversione dei poli terrestri sta preoccupando gli scienziati per le conseguenze che potrebbero verificarsi in tutto il mondo. Ecco, questi articoli non sono fantasia, sono risultati di ricerche scientifiche che evidenziano il pericolo in cui va incontro il mondo, e pertanto noi stessi. Come la miniera glaciale di cui gli scienziati hanno già annunciato la possibilità che avvenga sulla Terra, in quanto il minimo solare è ormai considerato quasi certamente il premonitore di una miniera glaciale. E nelle tre righe sopra riporto, ci sarà una miniera glaciale, come sostengono molti scienziati, oppure no, come dicono altri loro colleghi? Bisognerà vedere se ci sarà ancora il mondo, come dicono diverse profezie. Ecco, questa è la realtà di cui dicevo prima, noi viviamo già dentro alla profezia stessa, dobbiamo solo aspettare per vedere quando e come finisce. Ecco, qua entrando nell'articolo che ho appena fatto vedere, inerente alla miniera glaciale, dice, meteo, il sole è troppo fiacco e sta per spegnersi, conseguenze immediate anche sull'Italia. Senza dimenticare una realtà di questi giorni, che non è una profezia, è ben altro una realtà, come appena detto. Sì, la Russia è pronta a rispondere a un eventuale attacco nucleare, così se verrà attaccata sarà la fine di questo mondo. Sì, perché progettissi dei missili russi, che abbiamo visto appunto in questi giorni, capaci di trasportare un attestato nucleare su un missile ipersonico, per cui inattaccabile, irraggiungibile e impossibile da fermare, potrebbe essere, come si è detto, l'inizio dell'Apocalisse, la fine di questo mondo. Allora, la profezia della vigente si inquadra bene nella profezia che noi stiamo vivendo, il resto bisogna aspettare per vedere. Soprattutto non bisogna dimenticare, come riporta un altro su questo posto, sulla Terra ci sono due realtà, quella materiale, la vita, e quella superiore, non visibile. Ecco, questa è una delle tante verità che spesso dimentichiamo, sono il significato delle profezie che ci vengono comunicate, la realtà superiore. Non dobbiamo solo capirle, prepararci e aspettare, aspettare per vedere se nel 2019 verrà scritta la parola fine di questo tempo.